Approvato il bilancio consuntivo per l'anno 2023 e il bilancio preventivo per il 2024 dell'Ordine degli Architetti di Agrigento. Durante l'Assemblea annuale, dopo la relazione del Presidente e del Tesoriere, è stato approvato il bilancio consuntivo di uno dei più produttivi anni della storia dell'Ordine di Agrigento, l'anno del centenario della Fondazione degli Ordini degli Architetti italiani. L'Ordine ha contribuito alla redazione della legge regionale 12 per aprire il mercato dei lavori pubblici ai giovani e ai professionisti di talento. Ha promosso la realizzazione di un aeroporto a servizio della città dei Templi e della Sicilia centro-meridionale. E ha ospitato conferenze e mostre per promuovere la buona architettura. Stiamo stimolando parecchio le istituzioni competenti e la politica sulla necessità di realizzare concretamente l'aeroporto. Ma non l'aeroporto a servizio di Agrigento, perché se lo poniamo così siamo perdenti. È un aeroporto a servizio dell'intera area centro-meridionale della Sicilia. Grazie al recupero dei crediti e all'accesso alle risorse del PNRR, l'Ordine ha avviato un percorso di digitalizzazione delle attività di segreteria per rendere più efficienti i servizi agli iscritti. Ha anche supportato progetti di riqualificazione urbana, come il recupero del Centro Storico di Santa Margherita di Belice attraverso concorsi di progettazione per accedere ai fondi del PNRR. Inoltre ha organizzato conferenze con celebri architetti contemporanei e coinvolto gli studenti nelle iniziative per valorizzare il territorio in cui vivono. Infine ha concluso il ciclo di eventi per il centenario della Fondazione degli Ordini degli Architetti d'Italia, con l'Alexio Magistralis di Massimiliano Fuxas, esplorando nuove prospettive per l'architettura contemporanea. Semplicemente non è un onore vostro, ma un onore mio. Per essere invitato vicino alla grande architettura, alla grande storia, alla grande scultura, alle grandi opere che sono raccolte qui è un fatto straordinario. Devo dire che sui valori dell'architettura, quest'anno non ci siamo limitati a coinvolgere gli addetti ai lavori, siamo andati oltre, ad esempio a Sciacca con Open Study abbiamo coinvolto l'intera città di Sciacca, quindi i cittadini erano pienamente coinvolti sui valori dell'architettura. L'Ordine ha offerto inoltre un contributo di valore nel dibattito sulla necessità di importanti infrastrutture come il ponte sullo stretto, una linea ferroviaria veloce e un sistema portuale potenziato. Se ci fosse il ponte sullo stretto noi avremmo l'alta velocità ferroviaria, avremmo l'anello autostradale ben funzionante. Noi vogliamo tutto, vogliamo l'aeroporto e la priorità, però il ponte lo riteniamo importantissimo perché si faccia per davvero. Grazie alle attività svolte l'Ordine degli Architetti di Agrigento continua a essere un punto di riferimento per la promozione della buona architettura e lo sviluppo socio-economico del territorio.